Intro Bella a tutti ragazzi qui è Giovedere e Sante e ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo qui con il 34esimo Fuck You Time Prima di iniziare ragazzi come sempre mi invito a lasciare un bel mi piace per supportare al massimo questa serie Cerchiamo di arrivare a 300 like per questo episodio Prima di partire con le domande però voglio farvi una domanda io a voi In questi giorni stavo pensando di riportare sul canale GTA San Andreas Non lo porto veramente da tantissimo tempo Però in questi giorni mi sta andando un po' la voglia di rigiocarci Voi che dite siete d'accordo a rivedere o comunque a riprendere una serie come GTA San Andreas? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Vi lascio il link proprio in descrizione per votare sì o no a GTA San Andreas Naturalmente non saranno tantissimi episodi ma sarà un episodio a settimana da 10 minuti Quindi non mi costa nulla farlo È un gioco che voglio riprendere quindi fatemelo sapere votando qui sotto Detto questo partiamo subito con la prima domanda Che ce la fa Lorenzo Bogai Che ci chiede Fuck Chi vorrei essere al posto di Higuain? Assolutamente nessuno Non scambierei Higuain per nessuno attaccante al mondo Forse solo per Messi ma per il resto mi terrai Higuain tutta la vita La prossima domanda c'è la papasquale Abba2000 Che ci chiede Fuck Preferiresti vincere una Champions con Napoli o un mondiale con l'Italia? Allora sicuramente ragazzi direi la Champions con il Napoli Il tifo io che ho per il Napoli non è assolutamente paragonabile per quello che ho per l'Italia Assolutamente il Napoli è il tifo mille volte di più il Napoli che l'Italia sinceramente So che non si dovrebbe fare e che dovrebbe essere più o meno equa la cosa Però le squadre di club diciamo mi piacciono molto ma molto di più L'Italia la vediamo giocare una volta ogni due anni quasi a parte quelle amichevole e quelle partite un po' così Quindi non è che sono molto appassionato della nazionale italiana Certo quando c'è il mondiale si difa assolutamente Italia Però rispetto al Napoli non c'è paragone La prossima domanda ce la fa Manuc che ci chiede Fuck perché quando registri hai il computer mobile sul letto salutami grazie Ok ciao Manus non so se si pronuncia così Comunque questo computer che vedete qua ce l'ho sul letto perché mi serve per collegare il microfono Perché il microfono è collegato con questo filo che adesso non si vede Si si vede questo filo qua e quindi mi serve per forza un computer per collegare il microfono E visto che io il computer fisso ce l'ho dall'altra nell'altra stanza Mi serve per forza un computer qua vicino quindi metto il computer sul letto Emiliano Mirchi ci chiede Fuck uno che ne pensi del bullismo Due hai un'esperienza da raccontare Tre qualcuno ti ha mai insultato per il canale Allora io fortunatamente non sono mai stato vittima di bullismo Non mi hanno mai insultato mai offeso per cose diciamo come il canale oppure altre cose Però ragazzi se vi devo consigliare una cosa Se siete vittima di bullismo oppure cose del genere Parlatene con qualcuno lo so che è difficile Però parlatene con qualcuno perché secondo me è la cosa migliore da fare Prossima domanda ce la fa 6bgamer09 Fuck console o pc? Assolutamente console Lo so che giocare a pc magari per qualcuno di voi potrebbe essere anche molto molto meglio Però io è da quando sono piccolo che ho sempre giocato alla console e su pc Io veramente non mi trovo L'unico gioco che gioco su pc è minecraft Del resto ragazzi non gioco a nessun gioco Preferisco spendere anche quei pochi soldi per comprare un gioco e non scaricarmelo Come Life is Strange potevo scaricarlo gratis Però l'ho comprato per 20€ sullo store E' proprio una sensazione diversa per me giocare sulla console Non so spiegare il motivo però mi trovo di più sulla ps4 La prossima domanda ce la fa Angel04 che ci chiede Fuck qual è il tuo sogno? Se hai l'opportunità di vedere Gabbo gli chiederesti un autografo Ciao Giuse bella Ciao Angel Allora il mio sogno non lo so perché per il momento penso solo alla fine della scuola Poi dopo la scuola penserò a tutto il resto Se per l'autografo di Gabbo io sono un po' contrario agli autografi Preferisco più fare la foto perché alla fine l'autografo si ti rimane un pezzo di carta Oppure non lo so una maglietta filmata Però non ha la stessa valenza diciamo della foto La foto ti rimane più impressa Io ragazzi ho ancora come sfondo la foto che ho fatto con Ron l'anno scorso Se gli avessi chiesto l'autografo probabilmente l'avrei anche perso quel biglietto dove ha fatto l'autografo Non lo so però io ho sempre chiesto la foto La prossima domanda che è una domanda che mi avete fatto veramente in 500.000 Ce la fa Mike M che ci chiede Fuck Giuse cosa ne pensi della reazione di Guain all'espulsione? Io credo che non avrebbe dovuto farlo anche se la pressione era molto alta Ma il giocatore della sua taglia non dovrebbe fare così Anche perché secondo Giallo sportivamente parlando Sono giuventino ma credo sia evidente L'ha meritato visto che ha sgambiettato inutilmente un avversario solo per frustrazione Allora cercherò ragazzi di essere il più breve possibile nella risposta Secondo me è giusta l'espulsione ma non sono giuste le 4 giornate di squalifica Assolutamente no Sinceramente se devo dire la mia opinione Le giornate giuste sarebbero state 2 Ma non 4 4 assolutamente no Per quale motivo? Magari per le mani sull'albitro che gli stava tra l'altro venendo anche incontro Lo so ragazzi che Guain ha avuto una reazione un po' brutta diciamo Che l'hanno dovuto portare via di forza dal campo Però se vedete dalle immagini lui era quasi lacrime Mi metterò una foto qui E quindi veramente io credo che si sia pentito Proprio un secondo dopo averlo fatto Si sia subito reso conto di quello che Della sciocchezza che aveva appunto fatto Secondo me le 4 giornate sono troppe E 2 sarebbero state più giuste Speriamo nel ricorso Ho seguito che il Napoli ha fatto ricorso Quindi speriamo nella risposta Io spero che vengono ridotti a 2 Ma sinceramente Guardate ve lo dico proprio sinceramente Io spero che vengono ridotte le giornate ad Higuaín Non perché senza Higuaín Il Napoli non riuscirà a mantenere il secondo posto Assolutamente no Io spero che le giornate vengono ridotte Perché Higuaín deve assolutamente battere il record dei gol Assolutamente perché cioè se lo merita Se lo merita per quello che sta facendo in tutti questi mesi con Napoli Se lo merita e quindi non può Non battere il record per questa sciocchezza Ci sta ragazzi Date lo scudetto alla Juventus Che poi l'ha già vinto quello che volete voi Però ragazzi cioè non togliete il record ad Higuaín Togliete tutto Togliete tutto Ma non togliete il record ad Higuaín So che ci volevano ancora tanti gol Altri 5 gol per battere Perché lui ha 30 e ne deve fare 35 per battere il record Però comunque c'è anche la scarpa d'oro di mezzo Quindi ragazzi veramente Io lo dico in tutta sincerità Non me ne frega niente se il Napoli non arriva al secondo posto Perché ormai si sa Io sono convinto che un giocatore non può fare così tanto la differenza E che senza Higuaín noi siamo praticamente una squadra scarsissima No Però io spero che Higuaín giochi Più partite possibili Perché deve battere il record e deve vincere la scarpa d'oro Con questa ultima domanda il Faccio Time finisce qui Io spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere qui sotto con un commento magari la prossima domanda per il Faccio Time di domenica prossima Cerchiamo di arrivare come sempre a 300 like per questo episodio Noi ci vediamo con un prossimo video E vi ricordo di votare qui sotto in descrizione Se volete un ritorno di GTA San Andreas sul canale Quindi ragazzi ci vediamo con un prossimo video BELLA Ciao 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 Ciao